Gemellati con il festival francese, Notre Dame della Salette, con il festival polacco, un film di Zamosh, con il festival Religion Today di Trento e poi siamo in rete con gli altri quattro festival della regione Umbria. Quindi ci siamo rafforzati perché l'unione fa la forza. Il tema evoca proprio questa necessità di trovare delle intese, di trovare il modo di incontrarsi e non più dividersi. Babele ha un volto negativo che è la distruzione del tentativo degli uomini di parlare tutti la stessa lingua, di costruirsi una città fortificata e inespugnabile, di dare la scalata al cielo. La proposta però di Babele che è risvolto positivo e che da questo errore, da questa sciagurata ambizione umana è nato però, per amore di Dio dico io, la dispersione dei popoli, allora il plurilinguismo e allora la democrazia e allora la diversità come risorsa del nostro territorio. Il festival si inaugura sabato 12 novembre alle ore 16 al Cityplex Politeama, con il film Babele del regista Ineritu premiato più volte con i suoi Oscar e poi la inaugurazione solenne con tutte le autorità civili e istituzionali, tra cui voglio citare il Cardinale Gualtiero Bassetti. Il festival infatti quest'anno è inserito nel grande evento del Giubileo.